Buona giornata e buona domenica dalla redazione di Udinese TV, ancora in diretta per gli ultimi aggiornamenti a partire dalla cronaca perché è scattato alle 9 di stamattina un intervento del soccorso alpino sul Monte Tenchia in Carnia, quota 1.500 metri. Sul posto stanno operando la stazione di Fornia Voltri, l'equipe tecnico-sanitaria dell'alli soccorso regionale che è stata portata in quota con un fuoristrada a causa della scarsa visibilità. I vigili del fuoco, i carabiniere e la guardia di finanza. Un cacciatore è uscito di strada con il proprio automezzo precipitando lungo un pendio. A dare l'allarme una persona che si trovava in quota con lui e che ha assistito all'incidente. Le operazioni di soccorso si stanno svolgendo con molta cautela anche a causa della precipitazione nevosa in corso. Vedete proprio le immagini che arrivano dal Monte Tenchia. Ulteriori aggiornamenti se ne avremo nel corso di questa edizione oppure nelle prossime. A proposito di maltempo, stamattina poco prima delle 7 un fulmine ha colpito un'abitazione alla Tisana nella frazione di Pertegada. Sul posto i vigili del fuoco che sono intervenuti per soccorrere le persone all'interno dell'edificio che fortunatamente non sono rimaste ferite ma la scarica ha raggiunto il quadro della distribuzione della corrente facendo saltare l'impianto. C'è stata dunque la messa in sicurezza dell'abitazione da parte dei pompieri del distaccamento latisanese. A proposito di maltempo, andiamo a vedere com'è la situazione in tempo reale grazie alle webcam che ci arrivano dal territorio. Dunque la neve ha fatto la sua ricomparsa sulle vette delle Alpi Carniche e delle Alpi Giulie. Ricordiamo che c'è in corso un allerta meteo da parte della Protezione Civile Regionale di grado giallo per le precipitazioni che si faranno abbondanti nel corso della giornata. Allerta meteo che rimarrà in vigore fino alle ore 18 di oggi. Piogge diffuse da abbondanti ad intense localmente temporalesche più consistenti sulla costa e sulla bassa pianura. La quota neve inizialmente dai 1600 metri scenderà attorno ai 1800 metri anche nel fondo valle sul Tarvisiano. Sulla costa sofferà bora forte da moderata a sostenuta. In serata i fenomeni saranno in attenuazione. Ma a proposito di bora, divento forte, queste condizioni hanno portato stamattina gli organizzatori della Barcolana ad annullare l'evento in programma quest'oggi. La grande regata velica dell'Alto Adriatico che per la prima volta nella sua storia non si disputerà. Facciamo il punto della situazione nel servizio di Francesca Santoro. Non è stato il Covid ma il meteo a portare all'annullamento della 52esima edizione della Coppa d'autunno Barcolana che avrebbe dovuto disputarsi stamattina. Le cattive condizioni del tempo, con bora forte e previsioni in peggioramento, hanno costretto il Comitato di Regata a prendere la drastica decisione, alla luce delle indicazioni della Capitaneria di Porto di Trieste. L'allerta meteo emessa dalla Protezione Civile e le previsioni meteo dell'Osmer non hanno lasciato molta scelta agli organizzatori, che quindi alle 7 di stamattina hanno deciso, come rimarcato dal Presidente del Comitato, Mitia Jaluz. Di fronte a condizioni meteo marine come quelle odierne, la gente di mare riconosce la necessità di mantenere gli equipaggi a terra e le imbarcazioni a sicuro. Abbiamo lavorato con grande impegno per realizzare l'evento in sicurezza per quanto ottiene gli aspetti sanitari. Ora dobbiamo rispondere nel modo più corretto e secondo le logiche marinare al meteo. Annullare la regata è una decisione impegnativa ma necessaria che preserva tutto il popolo della Barcolana e rispetta con gli equipaggi familiari con barche di piccole dimensioni che sono il cuore della manifestazione. La Barcolana 2020 è stata caratterizzata anche dall'ordinanza emessa ieri del Governatore Fedriga, che ha imposto la chiusura dei locali alle 23 per evitare assembramenti e intemperanze che sono stati riscontrati nella nottata di venerdì. Carabinieri, polizia, vigili e guardia di finanza hanno eseguito diversi controlli per verificare che tutto si svolgesse rispettando le regole. Sono stati 25 i locali sottoposti a controllo, in particolare in centro città. Tutti i risultati a norma, mentre le persone sottoposte a verifica sono state 844. Nel corso di un servizio interforze una persona è stata sanzionata perché non indossava la mascherina. La Fipe, che già nei mesi scorsi aveva fatto appello al senso di responsabilità e al rispetto delle regole, ha annunciato che darà mandato i propri legali per valutare se rivalersi nei confronti dei pochi esercenti che con il loro comportamento hanno danneggiato l'intera categoria e la città, provocando un danno d'immagine nella notte di festa che tradizionalmente precede la Barcolana. A proposito della situazione Covid in Friuli, Venezia e Giulia, andiamo a rivedere i dati aggiornati delle ultime 24 ore rispetto ai contagi. Con la nostra grafica, vediamo, sono 1.264 le persone attualmente positive in regione e 126 quelle registrate nell'ultime 24 ore. Rimangono bassi i dati delle terapie intensive, 6 persone così come dei ricoveri in altri reparti, 23. Sono 1.215 invece le persone in isolamento domiciliare, 4.269 i tamponi effettuati. E a proposito dei singoli focolai che emergono dal territorio regionale, in seguito al caso di positività riscontrato ieri all'istituto comprensivo Pascoli di Cormons, stamattina è stata eseguita la sanificazione straordinaria della struttura scolastica. Vediamo le immagini che ci ha girato poco fa il sindaco di Cormons, Roberto Felcaro. Può essere garantito l'utilizzo in piena sicurezza del plesso di Via Roma, grazie appunto a questo intervento. Ieri è risultata contagiata una luna delle medie, quindi è stato concordato con l'Asugi che su tutti i suoi compagni di classe domani nel pomeriggio sarà eseguito un test rapido con garanzia di esito del tampone entro la stessa giornata. I ragazzi resteranno in isolamento fiduciario fino all'esito del test. Anche la dirigente scolastica Maria Rosa Rossignoli ha fornito rassicurazioni in merito. In accordo con il sindaco stiamo provvedendo ad una sanificazione straordinaria non solo dell'aula interessata ma di tutto l'edificio, grazie alla pronta disponibilità dell'amministrazione comunale per garantire la riapertura in massima sicurezza a lunedì 12 ottobre e il regolare svolgimento delle attività didattiche. Andiamo a vedere anche com'è la situazione in Veneto sul fronte dei contagi, il punto nel servizio di Rosario Padovano. Aumentano i contagiati in Veneto ma non la pressione sugli ospedali. La bella notizia è stata comunicata dal governatore riconfermato a furor di popolo Luca Zaia. Dallo studio della Direzione Prevenzione del Veneto emerge che la positività a partire da fine di luglio fino al 9 ottobre sono progressivamente tornate ai livelli di marzo ma rispetto ad allora i ricoveri ospedalieri presentano numeri infinitesimali secondo Zaia. 325 persone delle quali 231 positive contro le svariate centinaia di marzo, solo 29 ricoverati in terapia intensiva dei quali 9 già negativizzati. L'età delle persone positive nel Veneto è scesa da una mediana di 60-75 anni di marzo agli attuali 40-45 anni. Significativo che dal 1 all'8 ottobre la maggior parte dei casi riguarda i soggetti dai 25 ai 44 anni seguiti da quelli tra 45 e 64. Pochi sono i casi over 65 mentre 564 positivi sono attribuibili alla fascia più giovanile da 0-24 anni. All'8 ottobre 279 scuole del Veneto presentavano almeno un caso. Gli studenti positivi erano 300 su un totale di 707.214 pari allo 0,04%. 2.379 sono gli studenti in quarantena preventiva pari allo 0,34%. Il numero di docenti operatori positivi era di 41 su un totale di 95.786 pari allo 0,05%. Quelli in quarantena preventiva erano 243 pari allo 0,25%. Come dicono i dati da un lato in Veneto al momento non esiste nessuna emergenza ospedaliera. Dall'altro l'andamento dei contagi nelle scuole sembra confortante. Nelle ultime ore segnalata una positività a Teio Veneto comune al confine con il Friuli. Lo ha specificato il sindaco Oscar Cicuto. Ed ora la situazione a livello nazionale a fronte dell'aumento dei contagi, stop alle feste private anche in casa e sospensione degli sport amatoriali di contatto come il calcetto. Sono queste alcune delle ipotesi al vaglio del governo con i capi delegazioni delle forze di maggioranza che si ritroveranno anche quest'oggi per definire il testo del decreto che potrebbe essere varato ad inizio di questa settimana tra lunedì e mercoledì. Queste misure si aggiungerebbero al più generale freno alla Movida con lo stop dalle 21 alla possibilità di consumare in piedi cibo e bevande nei locali e con la chiusura dei bar e ristoranti alle ore 24. Poiché i dati mostrano che il contagio avviene principalmente tra parenti ed amici dovrebbe arrivare lo stop anche alle feste private anche in casa e un limite di massimo 30 persone ai tavoli, nei locali e nelle sale per cerimonie. Ieri i dati in Italia hanno fatto registrare 5.724 contagi ma rimane molto basso il numero dei decessi 29 così come delle persone ricoverate in ospedale e in terapia intensiva. A livello internazionale invece terzo record consecutivo di contagi secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità che sul suo sito ha riportato 383.359 nuovi contagi, il 7,9% in più rispetto alla giornata di venerdì. Già giovedì scorso era stato segnato un nuovo picco, oltre 343.000 infezioni. Sul fronte europeo si registra ancora anche in questo caso un nuovo record, 123.000 le persone contagiate nelle ultime 24 ore, circa l'8,3% in più rispetto al giorno di venerdì. Cambiamo argomento, oggi si celebra la giornata dedicata alle vittime mutilati sul lavoro, un messaggio lanciato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella richiama alla necessità di tutelare la salute per chi è impegnato nella propria attività lavorativa. L'impegno per garantire la massima sicurezza sul lavoro non deve arretrare di fronte a nessun evento emergenziale, ha detto il Presidente della Repubblica, perché la tutela della salute di chi lavora costituisce un bene primario su cui si misura la civiltà delle economie avanzate. Si è tenuta anche stamattina a Udine una cerimonia in forma ridotta da parte dell'ANMIL per appunto il settantesimo della giornata nazionale dedicato alle vittime di incidenti sul lavoro. Francesca Santoro ha fatto il punto con il Presidente Provinciale Luigi Pischiutta. Una cerimonia quest'anno ridotta a causa Covid, ma non per questo meno significativa per ricordare le vittime degli infortuni sul lavoro. Cosa indicano i dati? I dati chiaramente sono in diminuzione rispetto allo stesso periodo del 19, però dobbiamo considerare che c'è stato tre mesi di chiusura totale, salvo le aziende essenziali, per cui avevamo meno attività lavorativa, meno lavoratori sul posto di lavoro, quindi chiaramente c'è stato meno possibilità di creare incidenti. Ma nonostante tutto abbiamo avuto 850 morti, di cui praticamente parlo a livello nazionale chiaramente, di cui un quarto sono dovuti al contagio dal coronavirus. Per cui però abbiamo sempre un numero abbastanza alto, perché sono circa 570 decessi sul lavoro, cioè sull'attività lavorativa. Ci sono tanti, se rapportiamo a 8 mesi, 8 mesi sono 240 giorni, sono più di 2 morti al giorno, nonostante la crisi che è in atto, purtroppo. Cosa manca? Mancano corsi di sicurezza, di formazione? Manca la formazione, manca la formazione e l'informazione agli lavoratori e ai datori di lavoro, perché devono essere consapevoli, cioè bisogna essere consapevoli che non si può giocare con la vita di una persona, non c'è niente da fare, cioè o si si mette in testa, non dico solo a livello istituzionale, a livello nazionale, cioè deve essere un qualche cosa che deve essere sentito dalle istituzioni, è imposto, non c'è niente da fare. La cronaca, incidente frontale nella notte lungo la regionale 352, tra Grado e Aquileia, per causa in corso di accertamento a scontrarsi due auto, sono rimaste ferite entrambe le conducenti, due donne, una ragazza di 23 anni, residente a Ruda, trasportata in ospedale a Monfalcone in condizioni serie, ma non in pericolo di vita, e una 48enne della zona, ma anche lei soccorsa per accertamenti dall'equipe medica del 118, sul posto anche i vigili del fuoco per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Nei guai invece un uomo di 34 anni che vive a Udine, è un ragazzo di 24 anni, anche lui residente nel capologo friulano, entrambi cittadini albanesi fermati dai carabinieri della compagnia di Udine nella serata di venerdì durante un controllo eseguito nei pressi del casello autostradale di Udine Sud. Durante il servizio preventivo dei militari dell'arma, finalizzato a contrastare il fenomeno dei reati contro il patrimonio, la coppia è stata fermata mentre viaggiava a bordo in una vettura di grossa cilindrata. Insospettiti dal loro atteggiamento nervoso, i carabinieri hanno eseguito una perquisizione personale e anche del veicolo, e così è stato trovato all'interno, nascosto nella giacca di uno dei due, un coltello a serramanico della lunghezza di 21 cm. È scattata così a suo carico la denuncia per l'ipotesi di reato di porto abusivo da armi. Il coltello è stato sequestrato. La pagina economica ora con un assestamento autunnale si metterà a disposizione del sistema regionale 80 milioni di euro. La parte più cospicua, 50, andrà alla sanità, alle prese con l'emergenza coronavirus. Le altre risorse andranno ai comparti produttivi, all'innovazione, alle borse di studio, alle infrastrutture e ai grandi eventi legati al turismo. L'intervista l'assessore regionale alle finanze, Barbara Zilli. Il momento difficile che stiamo attraversando aveva portato la giunta regionale a proporre un assestamento estivo con una manovra di 40 milioni, cui sono residuati 58 milioni di avanzo, che mettiamo in gioco in questa manovra autunnale, cercando di dare delle risposte ai comparti produttivi e soprattutto del lavoro. Lo facciamo utilizzando, oltre all'avanzo di amministrazione, ulteriori risorse che derivano da recuperi interni e da maggiori entrate e questo ci permette di mettere a disposizione del sistema regionale 80 milioni circa di risorse. È vero, la parte principale, la parte del leone, la fa la sanità, del resto in un momento come questo di grande emergenza Covid, dove attendiamo ancora risposte dal governo sui rimborsi, non possiamo assolutamente distrarre l'attenzione da questo tema, per cui destiniamo 50 milioni di euro per il comparto sanitario. Gli altri pilastri sono il lavoro e le infrastrutture. Sì, il lavoro principalmente perché siamo convinti che le politiche attive per il lavoro debbano avere un grande impulso anche in questa fase dell'anno, per cui abbiamo destinato 3 milioni e mezzo per i contratti a tempo determinato ed altre attività relative al sostegno produttivo. Poi abbiamo pensato ai giovani con la destinazione di un milione di euro per le borse universitarie per i nostri studenti e poi per quanto attiene ancora il settore produttivo abbiamo scelto di destinare 500 mila euro per scorrere le graduatorie sull'imprenditoria femminile, altri 500 mila euro per sostenere i voucher per l'innovazione all'interno dei nostri comparti produttivi e poi ulteriori risorse importanti per sostenere gli insediamenti produttivi dei nostri consorsi. Le infrastrutture aggiungiamo 2 milioni e 600 mila euro al pacchetto già emesso durante l'assestamento estivo destinati alla viabilità di accesso all'ospedale di Pordenone. Attenzione viene riservata anche al turismo? Sì, anche il turismo per noi è assolutamente importante, abbiamo ottenuto risultati soddisfacenti durante quest'estate nella nostra regione e quindi abbiamo scelto di destinare 1 milione e 200 mila euro per i grandi eventi tra i quali anche spicca il Giro d'Italia. Prima di continuare con il nostro notiziario un aggiornamento rispetto alla notizia di cronaca con la quale abbiamo aperto questa edizione ovvero il soccorso in atto sul monte Tenchia in Carnia per un cacciatore che è finito con la propria autovettura, un fuoristrada lungo una scarpata, purtroppo arriva la conferma che l'uomo è deceduto. Sono ancora in corso le complesse operazioni di recupero della salma dell'uomo, come detto con il suo mezzo precipitato lungo un pendio a dare l'allarme, era stata una persona che si trovava in quota con lui e assistito all'incidente. Sul posto le squadre del soccorso alpino di Forneavoltri, dei Vigili del Fuoco, i Carabinieri e la Guardia di Finanza. Riprendiamo le notizie legate alla politica regionale con altri provvedimenti della giunta a Fedriga. Sono tre i punti principali del piano di potenziamento dei servizi per l'impiego approvato su proposta dell'assessore Rosolen di concerto con i colleghi Roberti e Callari che prevede un finanziamento di 24 milioni e mezzo di euro in tre anni per migliorare le infrastrutture e assumere nuovo personale formato e qualificato. Complessivamente saranno circa 120 nuovi innesti, a novembre verrà concluso il processo di inserimento di 52 vincitori del concorso bandito dalla regione lo scorso anno, mentre nel periodo immediatamente successivo ci sarà lo scorrimento della graduatoria per inserire ulteriori 21 addetti a tempo indeterminato. Per quanto riguarda invece il turismo e le iniziative legate al Giro d'Italia, la citava poco fa anche l'assessore Zilli, continuano gli appuntamenti collaterali in vista delle tappe che venerdì, scusate sabato e lunedì interesseranno la nostra regione con da un lato la tappa che riguarderà la partenza da rivolto e l'arrivo al Piancavallo, la seconda martedì dalla Castello di Udine a San Daniele. Ieri c'è stato un importante incontro a Villanova in comune di Lusevera, un concerto tra le stalattiti e le stalatmiti della Sala Regina Margherita di Savoia, una delle più ampie cavità che si snodano a decine di metri sotto terra. L'evento è andato in scena per la prima volta in occasione proprio in vista del passaggio del Giro a Villanova. Ma per le Grotte di Villanova e per il gruppo esploratori e lavoratori Grotte di Villanova e anche per me personalmente oggi è una data storica perché per la prima volta dopo 95 anni siamo arrivati nella Sala Regina Margherita, abbiamo fatto questo concerto, abbiamo realizzato il sogno degli scopritori della grotta che avevano sempre puntato sul fatto di arrivare qua in questa grandissima e bellissima sala. Ci siamo arrivati 95 anni dopo ma ci siamo riusciti insomma. Manca ancora un miglio è stato detto, l'ultimo miglio cosa vuol dire? L'ultimo miglio è l'impianto di risalita perché grazie alla Regione che ci ha sempre seguito nello sviluppo delle grotte, nell'ampliamento dei percorsi, grazie alla Regione è stata scavata una galleria lunga circa 160 metri che abbiamo attraversato adesso, quello che manca è fare l'impianto di risalita perché quando riusciremo a avere i finanziamenti per fare l'impianto di risalita i turisti non dovranno più scendere in grotta e poi tornare indietro ma fare un percorso circolare. Questo cosa vuol dire? Vuol dire riuscire a triplicare e quadruplicare il numero di turisti in pochissimo tempo e creare una vera e propria economia importante sia per l'Alta Valtore, per il comune di Lusevra ma anche per tutto il comprensorio quindi io chiaramente andrò a tirare per la giacca ancora in Regione come ho fatto per tanti anni e devo dire che mi hanno sempre ascoltato per riuscire a fare anche questo impianto di risalita che sarà molto importante. Questo impianto servirà non solamente per i turisti ma anche per riuscire a portare tutte le persone che non possono deambulare prodotti di handicap, portarli all'interno della grotta perché ora non lo possono fare perché ci sono migliaia di scalini per arrivare per esempio nelle zone più belle tipo la Sella Resina Margherita. Con questo impianto di risalita riusciremo a portarli direttamente e diversamente abili all'interno della grotta nei punti più belli ma non solo, riusciremo anche a fare un'altra attività che ormai sto seguendo da un paio d'anni con il dottor Mario Canciani, un pneumologo di fama internazionale e cioè la speleoterapia in grotta. Abbiamo fatto già insieme al dottor Canciani tutte le varie prove dell'aria e di tutto quello che lui sa che serve fare e ha detto che l'atmosfera, l'aria all'interno della grotta è tra le più pure che lui abbia mai trovato in tutte le sue prove quindi vorremmo fare anche questo e se faremo l'impianto di risalita riusciremo a fare anche questo. Davvero suggestive queste immagini dalle grotte di Villanova, altrettanto suggestive quelle della cerimonia del matrimonio che ha visto protagonista ieri a Venezia Adriano Panatta che ha sposato Anna Bonamigo, l'evento riservato ai familiari e svoltosi a Caffarsetti nel municipio veneziano ha visto la partecipazione di tanti amici della coppia ad ufficiare la cerimonia l'ex magistrato Carlo Nordio, amico intimo di Panatta che a luglio ha compiuto 70 anni ed è considerato il miglior giocatore italiano dell'era open nel tennis nel 76 infatti vinse, Roland Garros e gli internazionali di Roma più la Coppa Davis arrivano ad essere il numero 4 al mondo. Tre figli dal precedente matrimonio, l'ex Gloria Azzurra da ormai 7 anni era fidanzato con Anna che di anni ne ha 66, avvocatessa con un passato di politica e a Treviso, titolare di uno studio di diritto societario e commerciale, ha detto sì proprio nei giorni del suo Roland Garros Panatta, lo vedete felice durante la cerimonia tra gli invitati oltre al sindaco di Venezia Brugnare, il collega di Treviso Conte e anche Filippo Donnet, CEO del gruppo Generali. Tanti auguri dunque alla coppia. Ora lo sport l'Udinese con la formazione di mister Gotti che a seguito dell'annullamento dell'amichevole di ieri al Bruseschi contro il Pordenone ha diverse grane in vista della preparazione della prossima sfida di campionato contro il Parma domenica prossima. Facciamo il punto nel servizio di Alessandro Surza. L'annullamento dell'amichevole prevista ieri alle ore 15 alla Bruseschi tra Udinese e Pordenone oltre al chiaro e primario problema sanitario che ha colpito la compagine bianconera ha creato anche un problema sportivo perché parlando dal punto di vista del calcio giocato o meglio non giocato, la gara di ieri sarebbe stata importante per Luca Gotti per testare qualche giocatore e provare qualche situazione tattica nuova in vista della ripresa del campionato quando la Dacia Arena arriverà il Parma domenica prossima alle ore 18. Per prima cosa il match contro i Ramarri sarebbe stato un ottimo indicatore per capire chi sarà il sostituto di Juan Musso durante le settimane di assenza dell'estremo difensore argentino. Prove generali quindi annullate e di conseguenza il tecnico Veneto si dovrà basare solo su quanto vedrà in allenamento e sul parere del suo staff per scegliere colui che difenderà la porta bianconera a cominciare dalla gara con i Ducali. Ovviamente l'annullamento dell'amichevole è un peccato anche per gli altri giocatori della Rosa perché sarebbe stato un buon test per valutare la condizione fisica di De Paul e compagni. Sarebbe stato interessante vedere soprattutto i progressi atletici di giocatori che possono essere determinanti come i nuovi arrivati per Eire e Molina per esempio e sarebbe stato interessante vedere soprattutto Gerard de Olofeu visto che lo spagnolo già ieri probabilmente avrebbe potuto giocare uno spezzone di partita se non ci fosse stato questo imprevisto. Tutti loro quindi compresi gli altri neoacquisti, i vari Pussetto, Bonifazzi e Machengo avranno adesso una settimana di allenamenti che si svolgeranno rispettando sempre i rigidi protocolli per convincere Gotti e fargli capire di essere pronti. Per il basket invece appuntamento questo pomeriggio a partire dalle ore 18 su Dinese TV con la diretta della sfida di Supercoppa tra l'Apu Old World West e i Stings Mantova. Si giocherà al Pala Grana Padano Arena di Mantova, fischio d'inizio, palla 2 alle ore 18 e noi seguiremo naturalmente in telecronaca diretta la sfida che interessa i bianconeri. Per quanto riguarda invece l'informazione l'appuntamento ritorna in diretta alle 16, noi ci congediamo con le previsioni del tempo. Buona domenica a tutti! Amici di Udinese TV un saluto ben ritrovati ad un nuovo aggiornamento previsionale da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Condizioni di maltempo per la giornata di domenica sul Friuli Venezia Giulia per il transito di una nuova perturbazione artica con rovesci temporali diffusi per praticamente tutta la giornata in attenuazione però entro la fine del giorno. Temperature massime in diminuzione e neve in montagna. Diamo uno sguardo nel dettaglio alla situazione prevista tra Udine e Pordenone. Condizioni di spiccata instabilità con cieli molto nuvolosi e precipitazioni diffuse e anche abbondanti. A carattere nevoso sui monti a quote tra i 1200-1400 metri sul Tarvisiano quota neve fin verso gli 800.000 metri con qualche fiocco che raggiungerà anche la città. Clima fresco nelle ore centrali del giorno con massime non al di sopra dei 12-13 gradi. E diamo un accenno anche alla situazione prevista tra Gorizia e Trieste. Come vedete la situazione sarà praticamente analoga. Sulle coste si segnalano fenomeni localmente anche di forte intensità. Ventilazione di bora in generale e rinforzo con mari anche fino a molto mossi o agitati. Con questo è tutto amici di Udinese TV. Per maggiori dettagli anche in merito alla vostra località restate aggiornati sull'app di Trevi Meteo. Grazie. Grazie.